Sono 23 dei 45 arrivati in Toscana i migranti accolti in provincia di Arezzo che erano ospiti del cara di Castelnuovo di Porto, sgomberati tra mille polemiche con un blitz dell'esercito. La regione si ribella al metodo utilizzato dal governo. Purtroppo quello che sta accadendo lo apprendo dalle agenzie perché dal Ministero degli Interni, parlo per la Toscana ma ritengo che sia lo stesso per le altre regioni, ha affermato l'assessore Bugli, nessuno ci ha contattato. Immagino siano persone che hanno i requisiti per rimanere nel sistema dell'accoglienza e che quindi il Ministero stia gestendo tutta la vicenda attraverso le prefetture. Le frasi dell'assessore regionale hanno subito suscitato la ferma risposta della prefettura di Firenze che in una nota spiega di aver avvisato con mail già in data 18 gennaio scorso, secondo consueta e concordata a prassi, gli interlocutori della regione toscana in merito al trasferimento in questa regione dei 45 migranti provenienti da Castelnuovo di Porto. Ci hanno avvisato regolarmente con una PEC, afferma il presidente della Croce Bianca di Rigutino Pierluigi Faltoni, in questo caso è un migrante quello che loro ospitano nel comune di Civitella. La stessa comunicazione è arrivata anche al sindaco di quel comune.